Vi auguro il buongiorno con questo messaggio. L'angelo custode della creatività. Più scelgo di esprimere le mie emozioni, più energia creativa scopro in me. Questo angelo che regge un tamburello e che veste in modo raffinato ci aiuta a canalizzare la nostra forza vitale in attività creative che portano musica, colore e forma nelle nostre esistenze. Ci permette di essere abbondantemente creativi in ogni cosa che facciamo. L'angelo del cielo dalla forma. Far fiorire la nostra creatività può aiutarvi a vivere in modo creativo ed esprimervi al meglio in tutto ciò che fate. A riconoscere i vostri talenti creativi che provengono dalla fonte. Questo angelo custode veglia sui nostri talenti creativi e ci aiuta a sviluppare la capacità di esprimerci. Ci presenta costantemente opportunità di espandere i nostri orizzonti personali. Ci incoraggia a fare del mondo un luogo più bello e più gioioso. È l'angelo che stimola i nostri sensi affinché ci permettono di vedere bei colori, ascoltare buona musica e leggere tanti libri. La creatività assume forme infinite e questo angelo ci ispira a esprimere la gioia di vivere in un universo amorevole e attento. La nostra creatività può emergere nel modo in cui ci vestiamo, nel cibo che cuciniamo, nel modo in cui decoriamo le nostre case o organizziamo i nostri giardini. Può esprimersi attraverso la pittura, la danza, la musica o la scrittura. Con l'aiuto del nostro angelo possiamo essere sempre creativi. Egli ci ispira a cambiare e a trasformare le profondità del nostro essere, così che possiamo esprimere i nostri particolari talenti e la nostra immaginazione. Dà la sua benedizione a qualsiasi nostro mezzo di espressione e desidera che trasmettiamo agli altri la nostra luce nel modo che ci porta più piacere e gioia. Possiamo pregare l'angelo guardiano della creatività affinché ci aiuti a trovare ciò che è bello, completo e genuino per noi e a permettere l'espressione di questa consapevolezza. Possiamo chiedere la grazia di esternare la nostra individualità in modo naturale, senza fatica e sapendo che quando ci esprimiamo in questo modo stiamo dando un contributo al benessere di tutti quelli che ci circondano. Più siamo disposti a esprimerci, più contribuiamo a trasformare il nostro mondo in un luogo pieno di bellezza e di gioia. Questo è il messaggio del buongiorno.